Ciao, sono Gennaro Di Paola e sono un sommelier dell'olio. Oggi parliamo di contenitori, soprattutto. Quali contenitori devo utilizzare per il mio olio? Siamo a un nuovo video. Volevo fare questo video perché? Perché è importante fare video che possono portare benefici alle persone, soprattutto a chi produce l'elisir di lunga vita. Io lo chiamo elisir di lunga vita. E che cos'è questo elisir di lunga vita? E' l'olio extravergine d'oliva. Oggi parliamo di contenitori. E perché parliamo di contenitori? Perché è importante parlare di contenitori. Ma tu ti sei chiesto mai qual è il contenitore più importante per mantenere la qualità dell'olio inalterata a lungo tempo? Io sì. E me l'hanno fatto anche in tanti la domanda. Ma secondo te qual è il contenitore che posso utilizzare per mantenere a lungo la vita dell'olio? O lo chef life, come si dice adesso in inglese? Per me il contenitore più importante deve avere determinate caratteristiche. Mi deve proteggere l'olio dalla luce, dalla temperatura e dall'aria. Questi sono i tre nemici fondamentali che mi vanno a far morire l'olio. Ora vediamo i contenitori, quelli che si utilizzano normalmente sull'olio. E sono 1. La latta da 5 litri. Questa latta è un caposaldo per l'olio. Viene utilizzata tantissimo, soprattutto per il trasporto dell'olio, per i frantoi quando le famiglie vanno ad acquistare l'olio, perché io consiglio sempre di andare ad acquistare l'olio da persone serie e fidate. E soprattutto lo potete vedere con i vostri occhi. Quindi chi meglio il frantoiano oppure chi meglio da persone che hanno le olive e raccolgono le olive e ci tengono tante e vanno a produrre il loro olio da frantoi amici. Io li chiamo amici perché delle volte sono tanti anni che si va dallo stesso frantoiano. Alla fine nasce un'amicizia tra il produttore e il frantoiano. Uno è la lattina. Vediamo un altro contenitore. Il contenitore è la bottiglia di vetro scuro, che possono essere tanti modelli, Dorica, Maresca, Firenze, ma diciamo che mediamente le bottiglie sono dell'olio, dovrebbero essere vetro scuro e hanno diverse capacità. E alla fine New Entry del New Entry, perché viene utilizzato da poco, negli ultimi anni è sempre stato utilizzato col vino, però la New Entry è questo. Questo sacchetto, fine. E che ci va qua dentro questo sacchetto? Che cos'è questo sacchetto? Questo sacchetto non è altro che un bed in box, dove c'è la sua scatola. Io ringrazio Scatolificio Toscano, che mi ha dato la possibilità di poter fare questo video, perché mi ha concesso di utilizzare i suoi bag. Molto semplicemente mi ha contattato e io sono ben felice di poter aiutare sia Scatolificio Toscano a far conoscere il bag, ma sia anche voi, produttori, consumatori, di poter utilizzare il giusto contenitore. Partiamo dal primo. La latta. La latta è ottima per essere trasportata, ma ha dei piccoli difetti. Si ammacca facilmente. Quando si inizia la latta, è buona norma utilizzare, riempire, svuotare la latta e utilizzare dei contenitori più piccoli dove posso andare a mettere l'olio che sta dentro la latta e che posso utilizzare le bottiglie. Io dico, una volta aperta la latta, mettere l'olio nelle bottiglie. Potete utilizzare inizialmente le bottiglie da un litro, importate che siano di vetro scuro, e successivamente le bottiglie da litro convertirle, versare il contenuto delle bottiglie da litro, in questo caso l'olio, in bottiglie da 2,50. così sempre meno l'aria sta a contatto con l'olio, perché man mano che io vado a utilizzare l'olio, esce l'olio ed entra l'aria. E quindi se la latta mi fa entrare l'aria, mi protegge dalla luce, ma non dà calore, perché comunque non protegge dal calore, mi fa entrare l'aria, mi salvaguardia l'olio da un nemico, che è la luce, ma non me lo salvaguardia dall'aria e dal calore. La bottiglia, bottiglia di vetro, mi salvaguardia l'olio dal calore, perché è abbastanza isolante, me lo salvaguardia dalla luce, ma non dall'aria. Sfatiamo il mito che l'olio resiste a una lunga durata, non è vero, con l'aria si può andare a inrangidire, quindi la vita dell'olio va in modo precipitoso, appena inizio la bottiglia, già comincia a starci delle razioni di ossidazione. E allora che cosa posso utilizzare per mantenere a lungo, fino all'ultima goccia? Diciamo, fino all'ultima goccia, io dico, utilizziamo il bag, il bed in box. Questa è una membrana in 3-dra bag, che si può smaltire, una volta finito l'olio, si può smaltire, è reciclabile, quindi con la plastica, già così non è piatto, quindi non c'è aria all'interno, quindi quando vado a riempire, la sacca non c'è il contatto con l'aria, e qui già un punto a favore, un altro punto a favore qual è? O il rubinetto, o la valvola come vogliamo chiamarla, che mi dispensa, che mi favorisce la fuoriuscita dell'olio, per quel che mi serve, quindi apro, esce l'olio, chiudo, ed il gioco è fatto. Terzo, man mano che utilizzo l'olio, il bag, la sacca, si comprime, si comprime, fino a che non si comprime tutto, e finisce tutto l'olio. Non, non mi fa stare a contatto con, l'olio con l'ossigeno, o con l'aria, quindi non c'è quel processo di ossidazione. E ho tre bandaggi, tre, mi rendete conto, tre bandaggi col bag, io ringrazio, ringrazio attualmente il scatoleficio toscano, perché crede nel bag, e crede soprattutto che, voi produttori, dovete, mantenere, la qualità dell'olio, a lungo. E anche voi clienti, dovete acquistare il bag, che, che è fondamentale. ha, il cartone, che è un isolante, che mi isola dall'esterno, quindi non subisce sbalzi di temperatura, l'olio mediamente, l'olio va a mangiare a temperatura di 15-18 gradi, non deve avere sbalzi di temperatura, né al di sotto dei 12 gradi, comincia a avere, si cominciano a solidificare i grassi, né al superiore, perché sennò si riscalda. Quindi, questo mi favorisce, anche il trasporto a lungo raggio, perché comunque c'è un isolamento. Due, mi protegge dalla luce, quindi, mi sconvince un altro amico, che è la luce. Terzo, non va a contatto con l'aria. Caspira che bello. Un conditore, che mi mantiene a lungo la vita. Allora, pensate bene a, quello che dovete utilizzare come conditore. La bottiglia va bene, va bene per i ristoranti, va bene per le dispense, piccole bottiglie da 2,50, così l'olio sta poco a contatto con l'ossigeno, e, come spazio, mi occupa poco spazio, e ho la possibilità di avere più oli, nella dispensa. La latta, mi va bene per il trasporto, ma dopodiché, una volta aperto, lo devo subito travasare. Quindi, ricordate, solo per il trasporto. Alla fine, quale è il miglior conditore? Che è il becco. Se vi protegge dal, dall'aria, dalla temperatura, e dalla luce. Allora, viva l'elisir di lunga vita! Ma se l'elisir di lunga vita, non ci teniamo noi, a tenerla a lunga, la vita dell'olio, l'elisir, non funziona. Ciao!